E' nella centrale di Barge, realizzata nel 1970 e per tre quarti, commessa dall'acqua, che si consuma la tragedia di Encomenzio. Faremo tutti gli accertamenti del caso, stiamo già collaborando con le autorità e continueremo a farlo per accertare i partiti. Adesso non è possibile o non è il momento di avere le risposte sulle capsule. L'amministratore delegato Bernabè sostiene che al momento sono due le qualità per renderle un paura. Stare vicino alle famiglie di operai convolti nell'incidente. Per questo, oltre all'ospedalità, è stato predisposto un team di psicologi e coordinare i soccorsi con i vicini. Adesso lo capisco in guarda degli scogliattoli. E' un po' di efficientamento, in corso del settembre 2022 nella centrale, erano stati affidati a tre aziende primarie, Siemens, ABB e Volta. L'Erabè sottolinea che si tratta di ditte specializzate e linee mondiali del settore. I lavori che erano in corso in questa centrale erano dei lavori di aggiornamento tecnologico. Ed in particolare stavamo realizzando le progetti con l'auto sul secondo gruppo.